E' insopportabile, è veramente insopportabile, però scusate la rabbia perché capite veramente quello che viviamo. Dove dire che come Commissione Antimafia stiamo anche lavorando tanto, i risultati non si vedono all'immediato perché è una commissione d'inchiesta, quindi bisogna raccogliere le informazioni e alla fine si arriva a una relazione, si arriva a una conclusione. Nel frattempo però siamo riusciti a fare una cosa molto importante in ufficio di presidenza, siamo riusciti a ottenere le presidenze di due comitati, perché ci sono ben cinque comitati, in questo momento due sono andati al Movimento 5 Stelle. Questo è successo perché? Non tanto perché ci avesse a urlare come i pazzi, come ci accusano, perché abbiamo fatto vedere quanto eravamo preparati, quanto ci tenevamo e abbiamo due comitati che sono quelli in filtrazione economia legale e al nord e in filtrazione degli enti locali, Gian Russo e Gaetti. Faremo un lavoro meraviglioso, ne sono sicuro. Ma ora chiudo, vi dico ci sarebbero tante cose di più parlare, ma non certo in tre minuti. Io sono anche Commissione Cultura, mi occupo di università, abbiamo fatto una proposta di legge interessantissima, una proposta di legge importantissima per rimodulare il numero chiuso. Che succede, signore? Sto chiudendo, semplicemente... Ma le telecamere, vabbè, è giusto, è giusto, capite? Se ci sono io sul palco, ci tengo. Eh, smeliticate, dai, dai, troppo buono. Vabbè, comunque, per chiudere, insomma, ragazzi, io so solo una cosa, quella di oggi è una sorpresa, perché siamo cambiati tutti quanti, siamo cambiati noi che non siamo più dei pischelli che vanno sui palchi e non sanno cosa dire. Abbiamo lavorato e voi volete sentire quello che diciamo. Voi non venite qui per sentire semplicemente un comico, per farvi due risate o altro. Voi venite qui perché siete cambiati anche voi, dovete essere consapevoli. Voi siete dei cittadini con l'elmetto a tutti gli effetti. Quello che qualche anno fa era solo un invito, oggi è una realtà. Questo è un cambiamento e dove l'Europa il cambiamento sarà ancora più grande. Grazie a tutti.